Una carenza di personale tale da aver messo KO i servizi di anagrafe, urpe stato civile del comune di Venezia. Lo dice lo striscione che campeggia davanti al municipio di via Palazzo a Mestre per ribadire quanto sindacati e dipendenti denunciano da anni. Siamo rimasti in troppo pochi. Una situazione definita grave e con ripercussioni per tutti, non solo per la conseguente chiusura di alcuni uffici che costringe chi abita in quella zona a fare più strada per sbrigare una pratica. Per i lavoratori come assenza di personale vuol dire un incremento della mole di lavoro con una difficoltà assoluta a smaltire le pratiche e qui ricade sui cittadini perché se prima io dovevo smaltire dieci pratiche divise per dieci persone, adesso ne devo smaltire molte di più e a questo punto avrò dei ritardi sull'erogazione dei servizi. La questione potrebbe apparire tecnica e invece anche politica perché l'emergenza che si vive, sostengono i manifestanti, non è dettata da eventi improvvisi e imprevedibili o indipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale. È una scelta politica, si è privilegiata la scelta che rende di più in termini di visibilità, quindi assumiamo tanti vigili, tanti vigili forse fanno consenso, forse una lanagrafe più di tanto consenso non fa. Per cui tutte le risorse sono state dirottate verso la polizia locale. I lavoratori sono saliti nella sala consigliare di Via Palazzo dove si discuteva proprio del loro caso in una seduta congiunta della prima e decima commissione. Temono tra l'altro che i prossimi pensionamenti possano davvero assestare il colpo del K.O. al settore. Sono state date delle risposte troppo blande che riteniamo assolutamente insufficienti con l'assunzione di pochissime persone, tenendo conto che si tratta di pratiche che incidono nella vita di imprese, di persone, di famiglie che quindi esigono celerità e cura massima nella erogazione delle certificazioni che questi servizi erogano.